Ciao ragazzi e bentornati su Itinerary Pesca con un nuovo episodio dedicato a Fishing Planet l'altra volta ci siamo ritrovati un pochino fuori il Mood Water River e abbiamo dato un'occhiatina a quello che ci serviva abbiamo preparato le attrezzature abbiamo preparato le esche abbiamo shoppato un pochino e ci siamo un attimino resi conto che nell'effettivo Fishing Planet comincia a essere un po' shopposo comincia a essere un pochino pay to win perché abbiamo visto che con il recente aggiornamento sono state aggiunte delle esche particolari interessanti che possiamo vedere facciamo vedere qua lo shop che non ce le farà mai vedere perché ormai siamo entrati lo sapevo ormai siamo entrati dentro il lago insomma avete visto andate a recuperare il vecchio episodio dove vedete appunto che ci sono state aggiunte qualche schettina che sinceramente potevano evitare di mettere solamente con le monetine quelle che se compreno che si possono raggiungere anche diciamo nerdando all'interno del gioco ma è tosta è tosta è tosta bene detto questo siamo al mood water river oggi ci troviamo con sono le 5 della mattina stica la prima battuta di pesca che faremo sarà dedicata al feeder fishing cercheremo di lasciarci appunto il resto della pesca cioè quello a spinning nel prossimo episodio detto questo abbiamo 5 episodi per divertirci abbiamo ne mancano ancora 4 questa zona è abbastanza buona sia per il feeder che per lo spinning questa molto indicata per lo spinning e questa ci dicono per il feeder e andiamo quindi al catfish haven nel paradiso del pesce gatto il nome sembra darci speranza e niente andiamo ci trasferiamo e vediamo un pochino quello che ci aspetta allora eccoci arrivati al catfish haven devo riprendere un po mano ai controlli ok qui abbiamo un kayak qui abbiamo un altro kayak che non possiamo usare e siamo comunque in una situazione di alba quindi è sempre un po buietti c'è in bocca de buiame allora intanto facciamo una cosa prendi premiamo 9 e posizionavo il cabello che ti frega no posizioniamo il nostro poggia canne rod stand perché noi siamo fichi siamo ficherrimi e lo mettiamo sul limita posso metterlo quasi in acqua lo mettiamo nell'acqua perché noi siamo fichi allora detto questo dobbiamo preparare la pastura ragazzuoli quindi andiamo nell'inventario andiamoci a preparare la pastura allora prendiamo qua quanta ne mettiamo ne facciamo inizialmente che ne so un paro dei 100 grammi 200 grammi perfetto che ci viene in totale aggiungendo l'acqua 300 grammi quindi mixiamo ci vogliono i soliti 15 secondi perché non abbiamo un account premium se avessimo un account premium ma dovremmo aspettare solamente 5 secondi ma 15 secondi dai passano veloce soprattutto su un video di youtube dopo tre secondi si cambia video quindi iniziamo al 100 per cento ok la nostra pastura è pronta e adesso ce l'andiamo a sistemare sulle canne da pesca quindi dove stai ecco di qua la e una e due perfetto torniamo in mappa torniamo allo spot di prima e apriamoci la mappa appunto del c'è nessuno e riapriamoci la mappa del fiume in maniera tale non si premeva la m di mappa si ok allora vediamo un attimino il nostro ha raggiunto il fatto di dove si piazza road stand carina come cosa allora io pescherei in questa buca qua anche se questa zona qua dove avevo già messo un marcatore risultava essere interessante potremmo fare così mettiamo i piselli qua giù e qua mettiamo i pezzi di pesce di granchio di lambero proviamo dai detto questo via la m di via la mappa ok allora quindi che ci abbiamo fra le mani abbiamo i piselli che abbiamo detto che lanciamo al marcatore marcatore la mi ha petto il nostro marcatore ci arriviamo agili e un buon lancio un buon lancio ci sta ci sta onesto clippiamo a 28 metri shift 2 e mettiamo sul nostro poggia canne al secondo poi avevo appena ripreso la canna da pesca perché sono pirla prendiamo la cannetta da pesca invece adesso che c'ha il gambero a regola a reglas perfetto carichiamo di pastura e andiamo a posizionarci più o meno avevamo detto a centro lago dalla parte di là c'è il mondo che ci guarda un po così ok e lanciamo abbastanza vicino lanciamo intorno ai 19 metri clippiamo control scusatemi shift 1 e mettiamo sul poggia canne quindi in questo momento abbiamo posizionato due carni da pesca ora è pur vero che nelle prime ore del mattino sarebbe meglio pescare a pop up cioè scusatemi a galla con il walking the dog per quello che riguarda appunto la pesca spinning ci permetterebbe sicuramente catture più belle è quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto le prove quando abbiamo fatto le live ci siamo resi conto che rende di più durante quegli orari detto questo bimbacci che dire si aspetta che arrivi qualche cattura fide niente si porta pazienza e siccome siamo piuttosto fermini sulle gambe dopo un po di minuti amo deciso di cambiare un attimino spot allora rilanciamo quella con i pezzettoni perché se non ti lecchi le dita godi solo a metà quella con i pezzettoni e la rilanciamo il mondo la rilanciamo su una secca se non mi sbaglio ci dovrebbe essere una secca in queste zone un po guardiamo la mappa sì un pochino più a destra tipo qua ci dovrebbe essere una secca però un attimino dato che nella profondità non vediamo mangianza in abbondanza proviamo tornando la clip magari ok proviamo a lanciare su una secca per vedere se magari adesso i pesciolotti si muovono un pochino di più appunto in superficie sulle acque basse o tanto vale provare siamo circa 2,6 metri di profondità shift 1 riproviamo shift 1 e speriamo che così qualcosina si muova ora davanti a noi invece abbiamo in questa zona davanti alla vetta della canna un pochino sulla destra abbiamo delle alghe interessanti potremo provare anche in questo caso a cambiare il lancio e a spostarci diciamo dalla zona dove eravamo dove avevamo messo il segnalatore che aveva reso un passato magari ci proviamo a spostare accanto a queste piantine e vediamo se magari in queste zone pescando appunto con i piselli si riesce un attimino a scalzare qualcosa dalle profondità del fiume allora andiamo a togliere la clip andiamo a sistemarci nella zona vicina appunto alle alghe e vediamo un attimino se questa zona può essere più proficua allora clippiamo nuovamente siamo molto più vicini siamo su 17 metri mettiamoci sul nostro road stand e speriamo adesso che arrivi qualche cattura proviamo sembrerebbe che la canna di sinistra e si 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 una bella tocca fino a un l'è incazzato l'è incazzato lo spostamento ha reso ragazzi ottimo 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 il muliello sta un po sforzando un po tanto e siamo stranamente sono andate via le fanciulle arrivata la prima cattura non è che portano cacca chi lo sci ha detto questo è arrivata che piega la canna da pesca grazie mille ci hanno portato il caffettino fa bene qui fa bene qui quanto è piegata la canna da pesca attenzione qui si parla secondo me di un bel gattone dove piega qua dove piega e c'è il gattone mao secondo me c'è il gattao c'è il gattao mao ferriamo un attenzione un po la vetta portiamolo qua e questo sembra già ragazzi una preda interessante dovete considerare che sicuramente sono un preda di taglia maggiore qua rispetto a quella che sto pescando io ma lo stiamo anche pescando con dell'attrezzatura medium light quindi dobbiamo stare un pochino più attenti naturalmente alla resistenza della nostra canna da pesca ma allo stesso tempo guardate come piega guardate quello che è portare diciamo a guadino un pesce del genere siamo a 10 metri a regola piano piano vedo la punta che fa dei brutti volsi 10 metri e resiste la ragazza la ragazza resiste bene è il mulinello che non ce la fa ragazza andate là e raga tira 12 metri riprende spazio ok 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 stiamo avvicinando ottimo 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 10 metri dai e bravo è bravo veramente bravo andiamo 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 14 metri ripreso è nulla teniamo la vetta alta proviamo si sta spezzando la canna ma perché fa sto verso è brutto chi c'è fuori dalla porta vado a me corre vado a me corre bene bene ci siamo eccolo sta arrivando sta arrivando è stanco un cazzo facciamo uscire la testa fuori dall'acqua ecco lo lezzo che abbiamo preso oh la la ragazzi un boffin e sti cazzi avvocato un boffin ma che bello ma che grande questo è da miniatura è un bel boffin questo è un boffin da due chili e 181 sti cavoli 63 cm un novantino ce lo dà e noi come prima cattura diciamo a feeder io direi che non ci lamentiamo lo chippiamo e andiamo a rilanciare non mi ricorda se l'ho lanciata penso in quelle zone sì 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 la partenza è stata piuttosto violenta e ignorante allora non è di certo un pesce gattone di taglia impossibile però ragazzi c'è sul diciamo sull'acqua un pochino meno profonda sfruttiamo la lenza clippata e rilanciamo e ci rimettiamo in pesca sempre con il crowfish cat allora shift 1 la e ce la possiamo fare ok mentre di là il piz i pizelluici non ci danno per ora grande soddisfazione credo che a breve li cambieremo ora vediamo un attimino se mettere un'altra esca ma anzi quasi lo facciamo subito allora la cambiamo subito il pizelli i pizelli sono validi mo forse magari più per le carpe allora andiamo a cambiare esca andiamo nell'inventario vediamo un attimino cosa abbiamo di esche con noi abbiamo i night crawlers marshmallow small minos small cut bait proviamo le small cut bait no ci dice che le esche sono troppo pesanti vuol dire che il 25 non lo regge proviamo il formaggio ma proviamo il formaggio vediamo un attimino cosa ne esce fuori con il formaggio dai allora abbiamo detto di pescare vicino alle algasiv e ci mettiamo accanto alle algasiv vediamo un po' ok sfruttiamo la lenza clippata siamo intorno come abbiamo visto a 17 metri sbam proviamo non ce ne è venuto precisissimo ma ci accontentamos e vai e lo mettiamo detto questo lì siamo in pesca abbiamo preso un bel bowfin e niente vediamo se riusciamo a fare qualche altra bella cattura avendo cambiato un pochino l'esca in questa battuta da feeder fishing bene 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 forse sta ripartendo nuovamente la cannina di sinistra sembrerebbe a vederla sembra dai 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 sì 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 c'è 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 questa volta una partenza un pochino più blanda però 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 qui si parla secondo me di un pesce gattino un pochino più piccolo dato ci saluta il nostro il nostro Lorenzino ciao bimbo che se non mi sbaglio è in un altro lago che sta pescando ci chiede come va il lago per ora stiamo girando il gameplay abbastanza benino dai è arrivato un gattino mao piccolino vabbè però ci si posta dai 650 grammi di black bullet seconda cattura con la nostra gabbietta seboffa seboffa ciopiamo ciopiamo e ci muoviamo ancora nella stessa zona perché al momento attuale è quella che ci sta dando un pochino più catture quindi non ce la lasciamo sfuggire e continuiamo a pescare in questa zona sperando un attimino di vedere di fare qualche gattonzolo di taglia importante allora lezzo qua ci siamo le da quando hanno fatto il ragionamento è un pochino più difficile lanciare essere precisi perché c'è un pochino di di delay dal momento in cui si clicca al momento in cui si ferma diciamo il nostro indicatore dalla parte di là sulla canna 2 cerchiamo un attimino di smuoverla perché la vedo un pochino fermina sulle gambe allora vediamo un attimino se riusciamo mi sa che siamo rimasti agganciati a qualcosa abbiamo portato via delle piante o abbiamo un pescino abbiamo un pescino e non ce ne eravamo nemmeno accorti un piccolo bluegill chiappemmolo ecco allora il formaggio ci porta come vedete delle catture non propriamente imponenti vediamo un attimino se riusciamo a prendere qualche bus con i night crawlers perfetto allora torniamo sullo spot burp allora o proviamo a sparare un pochino facciamo una cosa proviamo a fare una cosa un pochino diversa proviamo allora intanto togliamo la clip ok e proviamo a sparare qua giù in questa zona qua vediamo un attimino cosa ne viene fuori eh si fa un lancio fuori pastura e vediamo un attimino cosa ci porta ok mettiamo sul nostro traspolo e vediamo un attimino se un lancio fuori pastura nello specifico guardando la mappa abbiamo lanciato dove c'è acqua bassa tendenzialmente forse nella vena principale del fiume quella un pochino più profonda ma non credo credo che dovremmo essere più o meno in questa zona qua vediamo un attimino se ci rende qualcosa l'unico modo per capirlo è aspettare e vedere un attimino se nell'effettivo qualcosa ci esce fuori allora il lancio che abbiamo fatto diciamo fuori zona mmm non ha dato dei grandi cambiamenti quindi proviamo a recuperare e adesso voglio fare una cosa vedete che qui davanti dove la vetta della canna c'è un apparecchie bollate ora non so se nell'effettivo queste bollate possano esagerato se queste bollate nell'effettivo possano fare la differenza però oh già che abbiamo delle bollate così davanti vediamo un attimino se il nostro feeder possa rendere in questa zona qua si parla di un lancio veramente corto è quasi un sottovetta ma là lì là proprio vicino vicino dove abbiamo però cavolo oh cavolo 4 metri e mezzo di fondo cioè 4 metri e 2 non mi aspettavo a 14 metri aspetta un attimo che clippiamo la lenza non pensavo di avere una zona con così tanta profondità qua sotto allora vediamo un attimino ma non dovrebbe essere così profondo vabbè vediamo un attimino se pescando in queste zone qua riusciamo ad avere qualche cattura particolare tanto tanto val provare no abbiamo una grossa profondità magari ci proviamo anche un lancettino con il gamberozzo tagliatozzo vediamo un po' dai puntiamo la pescata e vediamo se ne esce qualcosa allora io non so se è una questione che c'è più corrente però se notate guardate il filo della feeder road con il segnalatore giallo si è spostato verso sinistra a volte di là all'ernivira lo fanno le carpe cioè fanno delle mangiate timide così e poi se ne vanno però bisogna aspettare un bel po' siccome vedo che qua sotto ci gira piuttosto parecchio la corrente aspettiamo vediamo prima di recuperarlo se abbiamo una mangiata qui sotto se abbiamo una mangiata qui sotto al verme eccola guarda 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 che è ripartito eccolo e si e c'è mi sa pensare che proprio c'è proviamo e infatti e infatti il pesciolotto nel sottoriva il cambio tattico e mi sa che è un bassotto oh là là che c'è cosa l'è cosa l'è e insomma è un black bull head sui 670 grammi ci sta ci sta onesto onesto lo prendiamo e dato che questa pesca sottoriva ci ha reso piuttosto benino che dite ragazzi facciamo anche un tentativo no proviamo a metterci anche quella collesca più grande per capire un attimino se riusciamo a farci un qualcosa di taglia allora andiamo un po' di lanciare dove eravamo prima là eccoci qua e ci proviamo a spostare anche la canna che abbiamo messo in superficie ok bene e ci proviamo ok allora prendiamo la numero 1 e vediamo un attimino di portarla in questa zona vediamo un attimino se effettivamente il sottoriva rende in maniera così importante di qua comunque abbiamo lanciato in poco tempo abbiamo fatto una buona cattura vediamo se riusciamo a ripeterci anche con qualcosa di più pesante quindi con un approccio un pochino più e un pochino più strong e vediamo si prova e si piova vediamo un pochino là vediamo questa zona qui proprio vicini vicini dobbiamo sclippare intanto ok e esagerato a quanti metri siamo e va giù lento vedi piano 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 a 12 metri abbiamo 3,8 ma clippiamo shift 1 e vediamo un attimino tanto ci dice il nostro Lorenzino che allo Star Lake appena ora un basso da 700 grammi ci si può stare per la mia ignoranza nel gioco dai anche il nostro Lorenzino dalla parte del non star sta cominciando a far catture detto questo ragazzi sai che c'è facciamo un'ultima cattura per poi spostarci al prossimo video vediamo un attimo di riuscire a farla nel sottoriva vai e riparte il vermozzo e riparte il vermozzo e io direi che la ferriamo non sembra niente di enorme ma proviamo vai ok mi sa che lì abbiamo un'altra volta un bullet black bullet è bello sviperito oh merda è partita anche l'altra partita anche l'altra partita anche l'altra partita l'altra muoviti 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 si 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 piglia 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 no questo è più grosso questo è più grosso no oh è andata bene saltoni i saltoni è andata bene è andata bene ce l'abbiamo fatta al volo e comunque lo spostarsi in sotto lì avete visto in questo video ci ha dato ci ha dato diciamo risultati migliori e però questa volta un bel bassone quindi praticamente con la pesca feeder siamo riusciti a far entrare anche i bassi in questa in questa bella pescata vedo questo ragazzi che dire l'approccio nel paradiso dei pesce gatti non ci ha visti i protagonisti con un gattone di taglia comunque abbiamo fatto le nostre belle catture andiamo a prenderci questo bel bassone e ci organizziamo per andare nel prossimo spot e questa volta però andremo a pescare intanto recuperiamo il nostro pod ok recuperiamo il nostro diciamo poggia canne ci attrezziamo con la cannina da spinning ok e andiamo verso il prossimo spot quindi andremo qua e andremo in cerca di qualche luccio e di qualche blackbusters e di questo ragazzi vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto vabbè lo sapete nei gameplay non lo dico mai ormai quindi niente se vi è piaciuto lo sapete cosa fare detto questo ci vediamo al prossimo video sempre dedicato al Moodwater River di questo mese di maggio e buona serata shagari 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 Grazie a tutti.